buonasera come va come va ragazzi tutto bene questo che cos'è allora ci dobbiamo preparare per il campionato aci e sport grazie di necava aci e sport con le gt4 il problema è che le gt4 non le stiamo utilizzando quindi abbiamo sguinzaiato il ragioniere che ci ha dato insomma delle conoscenze appunto abbiamo conosciuto questo questo gruppo i the italian job che sembrano quasi una roba criminale però invece un gruppo che organizza gare su assetto coso competizione e ci ha organizzato un campionato coi fiocchi che replicherà proprio il campionato ufficiale aci e sport quindi niente siamo stati piazzati nella categoria pro pure se non lo siamo perché dobbiamo mettere l'asticella un pochino in alto se vogliamo vedere un po cosa fare e niente quindi siamo nella categoria pro dobbiamo cercare di anaspare per non per non morire prima dell'ultimo a sto giro ingegnere poi non so io l'avvocato veramente c'è il suo nome qua ce lo vedo però è fermo buonasera a tutti ragazzi siete in live prima che dite qualcosa di male su de me ma noi lo diciamo comunque ok però era il momento giusto per dirlo era questo ma vando giro ancora con la mercedes di nasca no no vandini e vandini cioè poi chi è vandini il ragioniere cioè chiamiamo ragioniere esatto non è che batman lo chiamate bruce wayne lo chiamate batman chiamate fa un giro buono e poi chiude le qualifiche con un incidente avvocato vedi cominciamo malissimo lei deve fare i giri brutti no ma non è non è aria stasera dei giri brutti anche in f1 ci sei più se vuoi si infatti ma qui sono più sincero ah quindi vuol dire cioè ammetti che sei sei un bastardo su f1 ammetti che fa le finte qui si gioco un po' sopra ma qui proprio no noi che cosa abbiamo fatto per la preparazione di questa di questa gara cioè abbiamo giocato f1 vabbè in realtà ci siamo fatti dare ci siamo fatti dare il setup da dal buon Michele Molteni che ringraziamo anche per il suo supporto anche morale non solo tecnico e poi abbiamo fatto una prova di gara ieri ieri sera ieri notte diciamo così che è andata benissimo a me mi hanno squalificato l'ingegnere ha preso due tra i tuoi vediamo primo giro come vengo piazzato quattordicesimo per ora però aspe però aspe più che altro ho fatto un 44 e 6 che potrebbe essere decisamente al di sotto delle mie possibilità che noi davveri piatti delle tattiche potevamo far trenino darci le scie no assolutamente no perché poi distrae no se uno lascia il culo davanti ti distrae infatti ma si ma poi uno si trova boccato davanti poi si emoziona cioè sono tutte cose che giro annullato eh stavo scendendo di due decimi giro annullato ho perso una vita qua a curva del cazzo mannaggia io già sono stato rispedito in 27esima posizione ci abbiamo l'Aston Martin stasera ragazzi ah l'Aston Mario ci abbiamo l'Aston Mario scusate ho sbagliato Brand cioè ho perso tutto il vantaggio che avevo fatto in 2-3 curve terribile sta eh vedo un po' di traffico ma l'ingegnere che è lei questo ah era lei avvocato ero io si sto a far passare tutti quanti così ma che siamo troppi tu non si libera mai lo spazio però eh si quello è il problema di 40 persone a Misano che continuano in perterri a farmi a scegliere sta pista per tutti i campionati della galassia io confido nel fatto che siano tutti più veloci di noi quindi almeno davanti non dovrei avere problemi veramente tecnicamente doveva confidare che erano tutti più lenti no? più veloci ingegnere eh quello è il problema oh niente sta curva ho perso 3 decima oh ma cazzaro il fatto è che no porca miseria vabbè ho migliorato un altro po' 33esimo il fatto è che non vorrei tornare cioè da una parte vorrei tornare box a misurare cioè a mettere bene le pressioni però dall'altra non voglio perdere la priorità acquisita un po' come quando sai stai aspettando oh mio dio ho visto un incidente perché sono in una posizione molto bella in cui nessuno mi rompe le palle io mi sono fermato ma mi sa che ho sbagliato infatti quindi quello è il problema che se uno torna in box poi deve beccare bene il pertugio continuiamo con le allusioni stasera ah no terribile terribile eh no terribile perso un'ottantina di minuti abbiamo pure davanti Marco Mazzocchi anzi dietro abbiamo Marco Mazzocchi un terribile quello oltre a lavorare la RAI trova il tempo pure di fare sim racing eh mica fuffa vabbè però ce l'aspettavamo che barcollavamo tra gli ultimi eh no era proprio sicuro però tutto regolare perché questo è il campionato di prova esatto quello reale invece di prestazioni l'avvocato ha detto che schifo di giro prevedo pole dice Giacomo no no è veramente schifo invece il giro purtroppo mi sto concentrato troppo nooo per poco porca miseria invalidato invalidato proprio per un per un per un pelo pubblico ah Falcone quello là che mi ha fatto la vivrea ciao bello dai dai questa è la volta buona anche perché è l'ultima eh vabbè annullato annullato vabbè è andata così malissimo 36 ma allora siamo tutti tre là dietro teniamo così teniamo in alto il nome della banca 23 23 io lo ho entro il ragioniere che tira il colpo di reni del ragioniere io ho buttato proprio così tutti i giri possibili immaginabile ecco con sto rompicoglioni dietro giustamente coraccio che doveva cercare di fare il suo giro ah niente non sono riuscito a guidare come facevo come so 44 e 5 è troppo alto cioè ben trentanovesimo ragione lei che che tempo ha fatto lei diceva sempre lei ha fatto la parte del ha fatto il lavoro mio stavo ha fatto esatto perché per tutte queste cose no ho fatto il 43 e 6 ma avevo il 43 e 2 sarei stato undicesimo porca miseria ah ragione alla grande ma invece voleva avere almeno il 43 nelle mani cioè ce l'ho nelle mani non so perché non l'ho fatto no 43 io non ho mai visto però 44 potevo fare tranquillamente invece non c'è stata poco medicina vabbè dai si parte allora 45 minuti di gara pit stop obbligatorio e devi per forza mettere qualche litro di benzina si può anche pensare di cambiare le gomme per però ci vogliono 5 secondi in più a fare il pit stop in più qua nel mio appartamento fa caldo dobbiamo partire dobbiamo aspettare la safety quindi non partiamo dobbiamo partire ok cioè questa è la prima partenza dove non devi partire non si deve partire non si parte mai quello dietro non lo sapeva e quindi è partito ecco questa è la safety car salutiamo fazio che se n'è andato fazio è la safety ah ok quindi eri ultima vabbè che poi pinna no avendo la macchina gialla potrebbe essere chiamato pinna gialla eh si è un tono ok si siamo avanti in curva prima che arriva da noi capito ti vorrei solo del telefono capito quando arriva da noi hai cambiato la notizia ok no no ho fatto una scelta brutta ho fatto una scelta brutta mi son messo in mezzo al panino ragione ingegnere non faccia scelte sbagliate è troppo tardi vabbè sono credo di essere tornato a una situazione tranquilla qua pinna gialla si è messo un po strano la vedo male ingegnere sinceramente pure io vabbè me lo son fatto pinna gialla tutto regolare tra questo momento io sto uscito a lei caracoli mi può anche di tipo comandi vocali quando frena c'è un po' come un po' come stare nel mio armadio non so più dove mettere la roba sembra più domenica pomeriggio da ikea questo in un momento nessun contatto incredibile onnis a pinna gialla no 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 in treno bravo scusate ragazzi non sto vedendo la chat in questo momento ma devo cercare di sopravvivere un'altra di box non so perché era la safety non credo è una mclaren era una mclaren si si è no era la safety era una aston si io mi doveva in mezzo questo questa macchina è il taxi stile pinna gialla si pinna è proprio in mezzo alle balle guarda left ma se io sto si dove l'altro ho detto non mi ero difeso perché ho detto vabbè mica li riattacco un'altra volta si riattacco un'altra volta di mortacci sua scusa mannaccio lo sapete il primo il primo avviso per taglio non sono passati manco 5 minuti ti ho ricordato che stava già lì vedo un incidente vedo un incidente si lo vedo è una mandrina sembra proprio le sai le gazzelle nella savana quando c'è il leone uguale ok barcolato torazio mi sono mi sono infilato spero che non si butti all'interno un'altra volta vedo una situazione abbastanza pericolante vedo altri incidenti avanti avvocato io mi vedo pure dietro così a occhio dai che non è taglio dai che non è taglio oh draft trooper De Luca bene bravo non posso prendere male ingegner qui ho visto male ingegner oh mio dio non capisco niente non capisco niente scusate vedo movimenti strani qui davanti c'è paura dai non mi vuole dare taglia adesso bravo non me l'ha dato però ho perso otto posizioni pure pinnaggiala se fa tre avvocato dove è uscito vedi qualificarsi avanti come il ragioniere che sta è il ragioniere andando con la gloria ragioniere appena puntato a fare uno ahia questa è una buona tattica e l'avvocato zitto zitto cacchio cacchio approfittato della bagarre 114 posizioni no ma di fatti questa denotte cioè è proprio una grandissima scelta un po' ricarica ce ne sono otto 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 vedo in modalità squalo dietro ha sbagliato specie di pesce qua è importantissimo non prendere le penalità per taglio perché è la differenza tra la vita e la morte esatto quanto scivolano ste macchine mamma mia inizio già a odiarle e sono i primi dieci minuti di questo campionato film di cui ovviamente adesso il ragioniere ci smocciola il titolo eh aspetta che sono non era così il titolo il ragioniere sono sicuro adesso i rumori i rumori strani li sta facendo il ragioniere sarà che stiamo in bagarre però sto facendo dei tempi veramente orridi io pure questo ci hanno in 46 eh dai però frena orca troia dai devo alzare un po' il passo qua perché non non la vedo bene oppure l'avvocato davanti cioè quindi io sono veramente la punta di diamante al contrario del team uno spreggio comunque ingegnere non è per niente però ma lei se l'ha pentato tutta tutta il fine settimana ma si si no però un po' di rispetto per i lenti insomma il ricordo dell'avvocato è andato anche da Amos a farsi dare consigli in loco vero ecco quindi se Amos sta guardando questa live i tuoi consigli non hanno funzionato dipende che consigli ti ha dato a meno che non era una nostra tattica per farla andare più lento mi ha consigliato di non correre di non premere l'acceleratore sì esatto vabbè consiglio onesto aspetta mo ci penso io a pinna gialla eh vada ingegnere perché mi sono visto sai la cosa la linguita per aprire il tonno stampata sul culo oh mio dio dai non mi dare taglio adesso perché ecco meno male ho alzato il piede per otto minuti per non prendere taglio un incarciofato a tre vedo le gialle alla terza ultima curva però non incarciofato abbastanza per farmi recuperare d'ammetta che stiamo facendo schifo la gente si incarciofa e non li sorpassiamo stiamo a riviarlo comunque ingegnere parla parla per lei vabbè ma non sei più dietro tu sì però c'è pinna gialla che vorrei sbolognarmi però non riesco nemmeno avvicinarmi più certo che pinna poteva andare con l'alpin infatti sì l'alpinna l'alpinna gialla cioè ha perso veramente un'occasione era un nome grandestino porca Eva non sto andando bene però ancora sul 45 male male io devo vedere dove hai sorpassato l'alpinna gialla porca miseria vai send it mamma mia quanto me si muove ragazzi dato vai pinna gialla se ne vada vai ingegnere ma hanno passato già la metà gara è 45 diviso 2 avvocato soffare ma come 45 me ne erano una d'ora di gare no 45 minuti avvocato ma lei che cazzo sbagliato stanza sto entrando una roba sbagliata sto giro non rientro però al prossimo rientro sto rientrando adesso che è successo reagire non mi fa il pit come non ti fa il pit non mi sta facendo il pit ho macchina spenta non fa il pit che sfiga non so che fare piangere ha preso una pista contro mano qualcuno mi è partito adesso così a caso completamente ok siamo ripartiti la va è box pulita cazzo cazzo lunghissimo lunghissimo si era staccata la button box ah ottimo una cosa che gli si stacca ragione sto uscendo adesso trentesimo sto uscendo stai riusciti davanti a me allora mi hai passato ai box vabbè non hai detto aspetta un attimo state arrivando adesso quindi si sto subito dietro cioè subito tra virgoletti dietro a polimeni abbiamo sorpassato anche Marco mazzocchi ai box a meno che stava dietro non mi ricordo ma comunque è mirata non ho capito come cazzo è possibile che mi hai passato ai box vabbè tu avevi lo spegnimento automatico o no? sì eh io invece l'ho manuale quindi ho spento la macchina prima di entrare alla piazzola io sono trentasei vabbè perché lei ha avuto quell'alterco ho avuto quella sempre colpa del muretto muretto ferrari prestato al team piper banca esatto come strategie siamo sempre nati forti c'è da lì vediamo se riusciamo a racchiappare capitone davanti adesso che ci avviciniamo al natale giustamente un draft trooper falcone bravo che non solo ci fa le litre ma anche ci dona le posizioni così è buffo e questo è bene chiaramente perché non si sa chi è la prima guida c'è uno incarciovato davanti ipsig buono sarebbe bellissimo recuperare quello davanti però difficile mancano 14 minuti e lui sta a 6 secondi e 7 e poi ho anche il terrore di andare un po' più largo in una curva perché mi mancano due avvisi e poi dopo sayonara eh certo dai se prendo onnis si stappa lo champagne con una ruota attaccata dietro c'è un altro col draft troo secondo avvertimento beccato dai che onnis è mio oh draft trooper capitone vedi oh vedi capitone regalo di natale fuori stagione capitone va a natale stamattina luglio ormai il mio obiettivo è onnis dichiarato otto nero in buca d'angolo intanto sto guardando avanti ma non mi devo scordare c'è Marco Mazzocchi dietro almeno un secondo onnis stannato onnis si avvicini lo sono non presagio a buone cose metti la mano fuori dai finestrini o nei rettili ciao Lorenzo send it send it se ne vada grande per ora si grande tamponatina è vero ho frenato un po' prima però stavo molto all'interno perciò ho frenato prima ma nonna mia adesso non c'ho più riferimento non sto capendo una sega Marco Mazzocchi ha sorpassato onnis e li vedo qui davanti ce l'ho vicini ma non vicinissimi comunque sono passato da inseguitore a preda perché c'è un Mazzocchi adesso che è stato inviperito giusto vedo Mazzocchi Marco Mazzocchi sento puzza di Onnis sento puzza di Marco Mazzocchi car on the right clear on the right mamma mia che sudata mamma mia che sudata bello però è un sacco di battaglie bello ah si pure troppo il prossimo appuntamento con questo con questo torneo è la settimana prossima e poi lunedì prossima e poi dopo tre settimane c'è l'altro come è andato a finire io io venticinquesimo l'avvocato quanto è finito ventinove ventinovesimo purtroppo per ragionare ha avuto problemi ma teniva il passo per stare davanti a noi anche ragazzi alla prossima ci vediamo ciao a tutti i ragazzi da Mazz eh